Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Solo qualche mese fa Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione ed oggi l'ex opinionista starebbe con un altro uomo. E questa l'ultima notizia girata sul web dopo che la diretta interessata è stata paparazzata intenta a baciarsi con una persona diversa dall'ex marito. Invece vi è un retroscena sul presunto flirt che in pochi conoscono. Ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato. Dopo la rottura con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli avrebbe un nuovo fidanzato. L'ex moglie del conduttore sarebbe stata vista baciarsi con un uomo e qualcuno l'avrebbe anche fotografata. Lo scatto non solo è diventato virale ma ha incuriosito molto i fan dell'ex coppia che non hanno potuto fare a meno di cercare qualche dettaglio in più sulla presunta nuova fiamma. Nessun flerto nuova fiamma per Sonia Bruganelli. L'ex opinionista del grande fratello VIP non avrebbe nessun fidanzato e l'uomo con cui si sarebbe baciata è una persona che conosce sia lei che Paolo Bonolis. Il suo nome è Giuseppe Scagliola ed è uno degli autori di Ciao Darwin che, il programma Mediaset condotto dall'ex marito della Bruganelli di cui lei è l'autrice, e c'è di più, l'uomo in questione è anche sposato. Quindi il bacio sarebbe stato frutto di un gioco per attirare l'attenzione dei paparazzi o per dare una lezione ai paparazzi. Dal canto suo Bruganelli non riesce a restare in silenzio. Così sui social pubblica una storia in cui spiega che non si tratta di nessun nuovo amore ma di un amico e un collega di lavoro. E non perde occasione di ironizzare. Auguri nuovo amore della mia vita. Voi cosa ne pensate? Credete che Sonia si è stata beccata con mani nella marmellata e adesso si metta a faccia ironia? Secondo voi come la prenderà Paolo Bonolis?